Sono le sfide che a Modena e a Gianni piacciono, la ricezione di Leal, la palla al centro per Anzani, la difesa di Christensen, forse in campo, forse no, Christensen vuole il punto, l'arbitro glielo dà, Cesare dice che il punto è di Modena, bagger di difesa di Christensen direttamente nel campo della Lube, palla molto vicina alla riga, da un punto di vista dell'ottica più fuori che dentro, ma può darsi che un pizzico di riga l'abbia toccata, chiede videocheck di Georgi se per caso fosse punto di Modena e se gli sarebbe già giocati tutti e due i videocheck di Georgi, la palla è dentro, la palla tocca nettamente la riga, punto in difesa di Micah Christensen.